Punto numero uno da avermi ben in testa per apprendere i pesci e come si affronta il fiume. Storie, curiosità e segreti di pescatori che hanno regalato idee ed evoluzioni al mondo del fly fishing. Non sono io tanto che catturo il tarpo, ma il tarpo forse cattura me. Io mi sogno di notte di andare a pescare. I signori della pesca a Mosca, dal 6 giugno ogni sabato alle 22 in esclusiva su Pesca, canale 236. www.mesmerism.info